Flavio! Oh mio! Ma chi è un po' in Italia? direi che la spira con il sole la M2000 buona no perchè sennò questa la scartiamo eh sono lì in un topo eh? che bello! che bello! che bello! che bello! che bello! ci sono strappati un po' qui però è una cosa magica si è bella eh ho provato il ghiaccio? ma che bello! che bello! ho provato il ghiaccio? non ho mai fatto una roba del genere! bello! grazie! ma che bello!